Se c'è un argomento che viene molto sottovalutato dagli imprenditori, soprattutto quando si parla di piccole imprese, è la brand reputation, vale a dire la reputazione del tuo marchio. Per spiegarlo in maniera semplice, la brand reputation riguarda principalmente l'immagine pubblica della tua azienda, pertanto come ti vedono i competitor e come ti vedono i clienti. Ed è il risultato di tutte le interazioni che ci sono online e offline con le persone che girano attorno alla tua azienda, quindi siano esseri dipendenti o collaboratori o clienti o appunto fornitori e anche competitor. Magari prima poteva essere un pochino meno rilevante, dove per prima intendo intorno a vent'anni fa. Questo perché se succedeva qualcosa che non andava attorno alla tua impresa, pochi se ne sarebbero accorti, perché sebbene il passaparola sia il principale strumento di marketing ancora oggi, ha l'unica pecca, che è lento. Mentre i social media sono fulmini e quando ti devono bruciare fanno male. Pertanto oggi cerchiamo di capire come si costruisce una reputazione positiva e soprattutto come possono rispondere le aziende nel momento in cui ricevono un attacco negativo. Detto ciò, iniziamo. La primissima cosa che dobbiamo fare da imprenditori è cercare di capire cosa dicono le persone di noi. E come si fa? Si va a combinare tecnologia, intuizione e un po' di lavoro da detective. Uno degli strumenti fondamentali da questo punto di vista è sicuramente Google Analytics. Possiamo utilizzare questo strumento come monitoraggio di ciò che avviene online, su come il nostro marchio viene ricercato, le parole chiave associate al nostro brand. E questo chiaramente include quelle che sono recensioni, monitoraggio sui social media e menzioni del marchio sui vari canali digitali, ad esempio anche sui forum. Questi strumenti hanno il pro che ti consentono di catturare in tempo reale quello che le persone dicono della tua impresa. E di conseguenza, se succede qualcosa di sbagliato, di poter intervenire. Altri strumenti che si associano bene a Google Analytics sono ad esempio Google Alert o Mention. Ad esempio su Google Alert vi basterà inserire la vostra parola chiave, quindi ad esempio il nome del vostro brand e nel momento in cui succede qualcosa online, qualcuno pubblica un articolo, qualcuno dice qualcosa sulla tua azienda, ti arriva immediatamente una mail che ti notifica di quello che sta succedendo. E questo chiaramente è un vantaggio non indifferente perché puoi percepire sia le reazioni positive sia le reazioni negative. Ma facciamo un esempio. Supponiamo che tu sia un ristorante in cui la maggior parte dei clienti si trova bene, la maggior parte ti dà feedback positivo, magari quando arrivi in cassa gli chiedi va tutto bene, vi siete trovati bene e cose di questo tipo. Però non riesci a percepire perché quelle dannatissime stelline di Google sono 4 e non 5. Da questo punto di vista ti può venire in conto qualche recensione, ad esempio su TripAdvisor o ad esempio su Google, che sebbene ci sia una critica costruttiva però ti identifica che i tempi di attesa sono lunghi. E' lì che dobbiamo andare a intervenire. Non basta semplicemente monitorare e renderci conto che c'è un problema in cucina. Ma andiamo ad eseguire operazioni di modo che la persona capisca che effettivamente stiamo operando per migliorare la nostra attività. Ma ovviamente lo scritto può essere interpretato, pertanto alcune recensioni magari potrebbero essere satiriche, sarcastiche. O magari quel che viene detto online non è propriamente veritiero e ci sono dei sentimenti che non sono proprio reali. Come facciamo a cercare di fare un po' una cernita di questo tipo di aspetto e soprattutto cercare di fare un minimo disunto? Esistono due strumenti in particolare, Brandwatch e Hootsuite, in particolare Hootsuite Insight, che ci aiutano proprio a capire qualche sentiment attorno al nostro brand. Pertanto riescono a capire qualche tono, le conversazioni che ci sono attorno alla tua attività e riesci a distinguere quelli che sono commenti positivi, negativi e addirittura neutrali. Ovviamente, piccolo consiglio, non informarti solo sul tuo brand, magari informati anche sui tuoi competitor, perché individuare quelli che sono punti di debolezza e sfruttarli a tuo favore non è una cattiva idea. Pertanto tutta questa operazione di monitoraggio non va fatta una volta sola, ma va fatta costantemente nel tempo, perché le cose possono cambiare. Magari tu pensi di migliorare le cose in positivo, ma hai creato un altro piccolo danno e lì bisogna andare a intervenire. A questo punto, supponiamo che tu abbia fatto finalmente questo tipo di valutazione, hai davanti le cose che effettivamente si possono migliorare. Come andiamo a migliorarle? È chiaro da questo punto di vista che un cliente soddisfatto è un'ottima pubblicità per il tuo brand, molto di più di quello che farebbe una sponsorizzata, una campagna su Google o un annuncio in televisore o in radio. Pertanto concentriamoci sul cliente. Il cliente che ci fa buon passaparola un domani ci porterà i suoi amici, i suoi familiari, tutta la sua cerchia di amicizie. E di conseguenza passaparola, che ribadisco è lo strumento migliore. Innanzitutto focalizziamoci sulla qualità del prodotto o del servizio che stiamo offrendo. Questo è il cuore della tua offerta, tutto il resto è alla fin fine un condimento. Se il prodotto non è l'altezza o il servizio non è l'altezza, possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo, ma in fin dei conti le cose non andranno bene. Dopo aver curato bene il prodotto e il servizio, passiamo al cliente. Dal momento in cui ti contatta, fino a che non riceve il prodotto o il servizio fornito, tutte le operazioni devono essere fluide, non ci devono essere intoppi. Anche perché se ci sono intoppi, difficilmente è colpa del cliente, probabilmente è colpa nostra. Quindi ad esempio, se hai un e-commerce e magari in fase di acquisto da parte del cliente ci sono dei bug sul sito, o magari nella pagina di checkout, oltre a chiedere nome e cognome, iniziamo a chiederle anche il nome della nonna, della zia e cose di questo tipo, non è il massimo. Semplifichiamo. Ed ovviamente anche le risposte devono essere semplici. Pertanto se un cliente mi chiede quanto tempo c'è bisogno per poter ricevere il tuo prodotto, e noi rispondiamo da 2 a 60 giorni lavorativi, non è il massimo. Idem per quel che riguarda la politica di reso, che ad oggi, nel 2024, è estremamente importante. Io so che se acquisto presso la tua azienda, devo sapere se posso restituire il prodotto gratuitamente, o se devo pagare qualcosa o se non lo posso restituire affatto, il che, diciamo, non è propriamente legale. Pertanto dovrai investire anche e soprattutto sul servizio clienti. I tuoi rappresentanti o le persone che parlano per te dovrebbero essere ben formati, saper risolvere il problema in maniera immediata, trasmettere fiducia, e soprattutto rispondere alle preoccupazioni dei clienti. La maggior parte dei clienti non acquista per un semplice motivo, ha un dubbio, e non è nessuno che lo va a dissipare questo dubbio. Altro elemento chiave, come già vi dicevo nel capitolo precedente, sono le recensioni. Bisogna strapparle gestire, indipendentemente che siano positive o negative. Piccola nota a margine per le recensioni negative. So che vi fanno ridere i video di TikTok in cui il ristoratore o il titolare dell'impresa blasta letteralmente il cliente finale. Ma non è quello il tipo di messaggio professionale che dobbiamo trasmettere. Perché purtroppo quella macchia resta. Pertanto, anche per quel che riguarda le recensioni negative, devi imparare a rispondere in maniera professionale e calma. In realtà ho realizzato un video apposito in cui vi spiego come raccogliere più recensioni e soprattutto come rispondi a queste recensioni. Anche e soprattutto se sono negative, te lo lascio in descrizione. Tornando all'ottica del miglioramento del servizio al cliente, del prodotto o del servizio che stiamo offrendo, pensiamo anche alla questione innovazione. Restare aggiornati su quelle che sono tecnologie e tendenze di mercato nel tuo mercato può essere fondamentale. Pensa ad esempio ai chatbot con l'intelligenza artificiale che possono fornire risposte appunto ai dubbi di cui ti dicevo prima. Quindi per esempio se io contatto l'assistenza clienti per chiedere quanto tempo ci vorrà per poter ricevere il pacco e invece ho un chatbot che mi risponde nel giro di un secondo dicendomi due o tre giorni lavorativi, probabilmente con la vendita me la porto a casa. Mentre se non c'è nessuno a rispondere, quasi sicuramente il cliente dovrà aspettare. Magari decide di mandarti una mail e non è detto che sia così. O magari si guarda altrove. E per noi non è il massimo. Non tralasciamo poi la realtà aumentata. Pensate a quanto è bello attualmente quando vai su Amazon, vuoi acquistare un televisore e poi vederlo posizionato nella tua stanza. Immagina se si potesse fare questo tipo di aspetto con il tuo negozio di abbigliamento. Potrei provare direttamente le magliette senza doverle comprare, senza dover fare il riso. Sono tecnologie attuali. Non sto dicendo nulla di innovativo. Queste cose esistono già. In sintesi, migliorare l'esperienza del cliente è un processo senza fine. È chiaro che richiede un impegno costante e soprattutto un'attenzione ai dettagli. Fatto il sunto di cosa possiamo cambiare, adesso cerchiamo di renderci proattivi, ovvero effettuiamo i cambiamenti. Cerchiamo di capire quelle che sono le operazioni che possiamo fare immediatamente. Già adesso puoi fare queste operazioni. Innanzitutto, Hootsuite e Sprout Social ci possono aiutare a capire un attimo che cosa succede sui social riguardo alla nostra impresa. Prima di tutto, prima di parlare, come succede nella maggior parte dei casi, ascolta. Risponde ai commenti e alle domande dei clienti. Che sia una critica costruttiva, una critica aspra, che sia un complimento, una risposta tempestiva è sempre la soluzione. Questo perché mostra che il tuo marchio si sta impegnando per la trasparenza e per la cura dei clienti. Oltre a gestire tutta la parte di interazioni quotidiane, renditi attivo, vale a dire pubblica, sui social media. Crea dei contenuti magari in linea con i commenti che hai ricevuto, con i messaggi che hai ricevuto, di modo da stimolare l'interazione del cliente finale. Terzo aspetto, incoraggia i clienti a lasciare il feedback. Questo è un potente modo per migliorare quel che è la propria reputazione online e mi rendo conto che può essere un pochino difficile da attuare perché lo vedo con i miei clienti che ogni volta che li chiedo guarda, dovete richiedere più recensioni ai vostri clienti mi guardano dicendo eh, non la lasciano. Dovete impegnarvi, semplicemente quello. Lasciare una recensione alla fine è gratis, è un gesto praticamente dovuto, vi siete comportati bene, ve la meritate quella recensione. In quarta analisi cerca di creare delle campagne incentrate sul cliente finale. Ad esempio, su questo canale abbiamo parlato di UGC ovvero User Generated Content contenuti generati direttamente dai nostri clienti decisamente più spontanei e più veritieri di quelli che noi andiamo ad effettuare. Questo perché il nostro cliente finale non ha un interesse specifico affinché noi vendiamo la nostra t-shirt ma si è trovato bene crea un contenuto per poterla pubblicizzare. E chiaramente nel frattempo che fai tutte queste operazioni utilizza le inserzioni e soprattutto monitora le inserzioni. Non basta mettere in evidenza un post per ottenere un riscontro positivo. Quella è una piccolissima parte di tutto quello che è la campagna di marketing. Questo perché se ti rendi conto di aver fatto una sponsorizzata e la chiamo volutamente così cioè in maniera molto semplicistica e questa sponsorizzata non sta andando bene o magari stai spendendo budget ma non stai ottenendo un riscontro devi capire dov'è il problema in tutte le fasi di questa campagna. Ad esempio non dimenticarti che anche a livello comunicativo le cose stanno cambiando quindi non limitarti alla semplice foto o al semplice post su Instagram. La gente oggi vuole più interazione vuole vedere effettivamente chi c'è dietro il brand e i video da questo punto di vista la vanno da maggiore che siano tutorial recensioni dei nostri clienti recensione dei prodotti o ad esempio live streaming per presentazione delle nuove linee i video possono aumentare significativamente quel che è l'engagement da parte del cliente per un semplice motivo anzi per due motivi il primissimo è che le persone cercano video ormai non cercano più foto vogliono il contenuto interattivo e in seconda analisi perché sono gli stessi social media a promuovere di più il contenuto video rispetto al contenuto foto o grafico peggio pertanto rimani sempre aggiornato anche per quel che riguarda le tendenze sui social media i nuovi social media che vengono pubblicati i trend che potresti cavalcare tutte modalità che potresti analizzare ad esempio tramite Instagram Reels o semplicemente vedendo TikTok nella tua specifica nicchia esistono strumenti proprio per vedere che cosa sta succedendo in questo momento come ad esempio Google Trends per capire di cosa stanno parlando le persone e come io azienda posso agganciarmi a quel tipo di aspetto anche su Google Trends io ho fatto un video dedicato perché è uno strumento fondamentale nel momento in cui devi capire che cosa posso pubblicare sui social te lo lascio in descrizione ma veniamo alla parte delicata le crisi ovvero gli incidenti negativi come facciamo a gestirli perché possono succedere succedono a tutte le aziende è normale prima di tutto prima di finire in crisi cerca di avere un piano un piano di gestione delle crisi proprio come succede quando una barca sta naufragando e sai esattamente dove devi andare a meno che parliamo di Titanic lì è un altro discorso quindi prima di tutto adotta il piano e il piano deve essere veloce come vi dicevo la tempestività la fa da padrone in seconda analisi analizza la situazione cerca di capire cosa sta succedendo cosa ha detto il cliente a cosa fa riferimento terza analisi cerca di capire la portata vale a dire quanto danno mi può fare questo tipo di affermazioni da parte del cliente e quinta analisi si trasparente tutti commettono errori siamo umani e quando lo si dice sui social il fatto che siamo umani può succedere di sbagliare chiaro a meno di errori proprio non accettabili però l'errore può capitare pertanto se lo hai commesso ammettilo e cerca di porre rimedio e come poniamo rimedio prima di tutto rimanendo calmi rimanendo professionali e tutte le risposte che diamo a nome del nostro brand dovrebbero essere commisurate al modo in cui ci poniamo vale a dire devono riflettere i valori del nostro marchio se come marchio trasmettiamo audacia e poi nella risposta siamo timidi non va bene è il modo in cui avere a gestire la crisi che va a pregiudicare come il cliente si porrà dopo e come tutti i clienti che leggeranno quelle risposte si porranno dopo perché lì il problema non è tanto il cliente di per sé è tutto quello che ne arriva dopo a questo punto dopo che hai capito tutto cerca di ricostruire la fiducia da parte del cliente che hai scontentato dimostra che hai commesso un errore se hai commesso un errore poni rimedio e soprattutto informa il cliente di come stai ponendo rimedio perché lui deve sentirsi parte della soluzione deve capire che lui ha dato una mano a migliorare l'impresa magari neanche volendolo però lo ha fatto in questo modo sarà lui per primo chiaramente se sei una persona abbastanza intelligente a darti il suo sostegno perché lo hai accontentato lo hai fatto felice e sta per certo che un domani dovesse affidarsi a te quel tipo di cosa non succederà più è chiaro che gestire le crisi richiede un minimo di pazienza preparazione e soprattutto perseveranza che non è da tutti e di fatto in questo nuovo capitolo vorrei introdurvi la questione team perché è vero ci sta nel momento in cui un'azienda sta crescendo all'inizio affidiamo tutta questa gestione all'ultimo degli arrivati lo stagista che magari in quel momento sta testando sta un attimo capendo come funziona l'impresa però poi a un certo punto le cose iniziano a diventare serie e non può affidarsi all'ultimo degli arrivati e il team la fa da padrone da questo punto di vista dove intendo il team del reparto marketing di quali figure potresti aver bisogno man mano chiaramente che l'azienda cresce e di conseguenza si parla sempre di più di te sui social media e in maniera commisurata si spera cresce anche il fatturato innanzitutto esperti di social media anche perché è il primo posto in cui si potrà parlare di te in seconda analisi esperti di seo quindi professionisti che si occupano di indicizzare un determinato sito web ad esempio il tuo in terza analisi designer anche perché nel momento in cui ti stai ponendo all'esterno l'immagine la fa da padrone quarto aspetto copywriter ovvero persone che si occupano di scrivere testi persuasivi volte alla vendita e quinto sarebbe l'ideale un manager in ambito di comunicazione e relazioni pubbliche perché come vi dicevo le crisi possono accadere e avere una persona messa a capo lì che gestisce tutto quanto è l'ideale ovviamente non basta assumere queste persone o magari affidarsi ad un'agenzia che ha questo team all'interno è necessario che ci sia formazione sia per questo team stesso ma anche e soprattutto per l'azienda stessa perché l'azienda non è solo il prodotto o il servizio che stai fornendo o la singola persona che ha fatto la vendita l'azienda è tutto anche i dipendenti che magari sono in amministrazione e poi un domani si pongono all'esterno o magari comunicano con il cliente finale e se queste persone non sono formate è chiaro che non ci farei una bella figura e quando si parla di comunicazione non si parla di comunicazione solo all'esterno ma si parla di comunicazione anche interna al team stesso vale a dire dobbiamo essere tutti allineati non è pensabile che il reparto spedizione il reparto amministrazione e il CRM dicono tre cose diverse e poi magari si rimandano la colpa tutti devono avere chiaro come funziona l'impresa e come comunicare con il cliente esterno e qui possiamo entrare un attimo nell'ambito della selezione del personale che è un qualcosa diciamo di abbastanza complicato da gestire non invidio tutti quelli che si occupano di HR perché cosa fondamentale è mantenere questo team solido e l'azienda solida se il team è felice e contento allo stesso tempo si porrà in quel modo anche esternamente quindi anche con i nostri clienti se c'è scontentezza all'interno del team e all'interno dell'azienda questo si riverserà sui clienti inevitabilmente e siamo arrivati al capitolo conclusivo il mio consiglio per voi è semplicemente uno ora che avete compreso quante cose ci sono da fare iniziate pian piano partendo ad esempio dal primo capitolo che vi ho introdotto quindi cercando un attimo di capire la reputazione attorno al vostro band dopodiché magari tracciando quello che succede attorno alla vostra impresa quindi attivando ad esempio Google Alert per capire se c'è qualcuno che parla di voi e poi magari cercando di investire un minimo in comunicazione all'inizio magari con una singola persona dopodiché magari con un team o ad esempio con un'agenzia in ogni caso ascolta il feedback dei tuoi clienti è lì la partenza i clienti già da soli sono in grado di comunicarti se c'è qualcosa che non va o se c'è qualcosa che va migliorato è importante capire che la gestione del tuo brand non è un qualcosa che si fa una tantum è una cosa che va fatta con costanza nel tempo in ogni caso dovresti avere dubbi su come iniziare ti lascio direttamente il mio sito in descrizione dove se avrai bisogno di una consulenza ci vediamo lì detto ciò io ti ringrazio di avermi seguito fino a qui ti invito a lasciare un like se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile se hai domande c'è la stessa nei commenti ti leggo e ti rispondo direttamente lì e se ti interessano altri video in cui parliamo di digital marketing e imprenditoria digitale ti invito ad iscriverti al canale dato che ogni settimana ci sono nuovi video e noi ci vediamo alla prossima ciao